Tre nuove norme di attuazione dell'autonomia altoatesina sono state approvate dal Consiglio dei Ministri nel corso della seduta a Palazzo Chigi, cui ha partecipato anche il Presidente della provincia Luis Dunwalder. La principale delle norme approvate riguarda la Corte dei Conti. Da un lato recepisce le modifiche al titolo quinto della Costituzione che non prevedono più il controllo preventivo di legittimità da parte dei giudici contabili sugli atti amministrativi della provincia autonoma. Dall'altro la norma prevede che, in base all'accordo di Milano, vengano trasferiti dalla Corte dei Conti e la provincia il controllo sulla gestione e la vigilanza sugli obiettivi di finanza pubblica, con il relativo rispetto del patto di stabilità degli enti locali e strumentali, come comuni, azienda sanitaria, Libera Università di Bolzano, Camera di Commercio, IPES e società in house. La provincia comunicherà poi alla Corte dei Conti gli esiti di tali verifiche. Nulla cambia invece riguardo la parte giurisdizionale e contabile. La norma prevede anche che la sezione di controllo di Bolzano della Corte dei Conti possa essere integrata con un nuovo membro nominato dal Consiglio provinciale. La seconda norma di attuazione licenziata dal governo prevede l'aumento da due a tre dei consiglieri di Stato altoottesini che si occupano dei giudizi di appello sulle decisioni della sezione bozzanina del Tar. Infine, il Consiglio dei Ministri ha esteso la carta di identità trilingue anche ai circa mille abitanti di Oltretorrente, Bulla e Roncadizza, le frazioni ladine del comune di Casterrotto. A margine della seduta a Palazzo Chigi, il governatore altoottesino ha avuto modo di avviare con i ministri competenti i contatti su alcune questioni che verranno approfondite nelle prossime settimane. Tra queste figura anche il nuovo assetto del Parco Nazionale dello Stelvio. Alcuni punti in discussione sono superabili con soluzioni a livello tecnico, su altri Roma e gli enti interessati stanno lavorando per l'accordo politico, sintetizza Durwalder, mentre i deputati delle SVP Siegfried Brugger e Karl Zeller giudicano molto positivamente l'approvazione dei tre decreti attuativi da parte del Consiglio dei Ministri e che vi è pieno apprezzamento per l'operato del ministro per i rapporti con le regioni Fitto, che con coerenza ed equilibrio ha rispettato i primi impegni assunti nei confronti della nostra autonomia speciale. Quando il controllore ha un rapporto stretto con il controllato, la garanzia di terzi età del controllo è sempre un po' intorpidita e invece il parere del finiano Alessandro Orzì, secondo cui una casta politica meno controllata e potenzialmente meno trasparente non è nell'interesse dei cittadini. Si può parlare, prosegue Orzì, di controlli incestuosi da qui in avanti? Il dubbio c'è e legittimo avanzarlo, come lo ha avanzato ricorrendo a fini espressioni il procuratore generale della Corte dei Conti nei giorni scorsi nel corso dell'annuale esposizione della relazione sull'attività dell'organo contabile. Così conclude il consigliere provinciale di Futura Libertà.